Team LVF stagione 2019, formazione juniors, formazione che nel 2018 è stata la prima squadra italiana. Campione italiano piccolo, ma poi anche Samuele Rubino, campione italiano su strada, ma ormai tutto è alle spalle perché il 2019 ormai è pronto. Siamo con il presidente Amedeo Rubbi, Patrizio Lussana e con Gianluca Grofoli. Tre personaggi, tre dirigenti che quest'anno avranno un bel impegno. Formazione, marchigiana e lombarda. Sì, c'è stato questo abbinamento tra la Lombardia e le Marche. Abbiamo infatti squadra 4 ragazzi marchigiani con una doppia affiliazione e 10 affiliati a Bergamo in Lombardia. Abbiamo fatto questa cosa perché abbiamo voluto assicurarci Garofoli e altri due ragazzi Bevilacqua e Gidas. E niente, sicuramente la squadra è ancora molto competitiva, sicuramente sui livelli se non anche migliore dell'anno scorso. E poi vedremo la strada. Gianluca Grofoli, naturalmente il matrimonio con la Lombardia, dalle Marche, praticamente amici che si ritrovano. Ci siamo subito trovati bene, già ai primi incontri, quindi quando ci hanno contattato ci siamo visti un paio di volte e abbiamo capito che era il connubio giusto, quindi abbiamo accettato questa nuova sfida. Un ragazzo il vostro che cresce, questo Garofoli, che si è già messo in luce, inizia la carriera fra gli uniori, poi saranno i direttanti e poi i professionisti e speriamo che questi ragazzi possano trovare la loro soddisfazione in questo mondo. Sì, sì, e adesso è importante farli crescere bene e inquadrarli abbastanza bene. Penso che l'LUF è un'ottima squadra, quindi penso che abbiamo fatto la scelta giusta. Amadeo Rubi è tranquillo, sereno e felice, perché quello dell'anno scorso è stata un'annata ad hoc, veramente come il buon vino, ma quest'anno, dice il presidente Luciano, ancora di più. È una speranza questa. L'anno scorso dicevamo che avevamo una squadra competitiva, non pensavamo onestamente di passare le 40 vittorie, perché onestamente saremmo stati un pochettino... Però quest'anno, come diceva Patrizio, la squadra è, se non uguale, addirittura migliore, con dei nuovi innesti. Gli anziani, così per dire, dovrebbero confermarsi, quindi ci arriveremo molto vicino alla stagione dell'anno scorso. La presidenza, Patrizio Lussana, poi ancora vicepresidente Mario Parsani, poi il marketing, Lorenzo Belotti, direttore tecnico Raul Parsani, direttore sportivo Paolo Valotti, Marco Della Vedova, e poi ancora accompagnatore Urbano Pezzotta, Angelo Bonfanti, Guido Porcelli e Lori Crotti. Sì, ci siamo appunto un po' divisi, perché l'anno scorso il vicepresidente era Mario Parsani e Medeo Rubbi, quest'anno Medeo Rubbi è diventato presidente del team LVF Marche, quindi però alla fine è un abbinamento, ma la squadra è una, i ragazzi corrono con la stessa maglia, con LVF, per noi è comunque un'unica squadra. Solo il discorso appunto di questa doppia filiazione, che riguarda un po' qualche corso che dovremo fare nelle Marche, sicuramente è una o due giorni che organizza appunto Garofoli giù, che andremo giù per far bene, però la squadra è una, sono 13 ragazzi, 14 ragazzi, come l'anno scorso, sono dei nomi importanti, sicuramente punteremo a vincere qualcosa di più importante ancora dell'anno scorso. E poi lo staff dirigenziale delle Marche, Medeo Rubbi, Cristina Cantarini, Gianluca Garofoli, Paolo Marinelli, Massimo Umbri. Anche questi sono dirigenti conosciuti nel mondo del ciclismo? Sì, sì, sono tutti abbastanza storici, quindi nomi importanti. Medeo, quante vittorie quest'anno? La maglia di campione del mondo, campione italiano, regionale, europeo, e poi ancora qualcosa, corsa tappe, naturalmente non c'è più la tre giorni aerobica, ma ci sono altre corse. Beh, l'anno scorso abbiamo cominciato con la tre giorni aerobica, due maglie tricolori, un bronzo e i mondiali. Come ha detto Patricio, vogliamo migliorarci, quindi fate un po' i conti. I conti sono già fatti, sorridono, vuol dire che quando si sorride c'è armonia. Al di là del successo, perché poi voi avete fatto ormai 20 anni di storia, i primi 7-8 anni, arrivare al successo una volta, due in un anno, era già soddisfazione. Adesso poi l'anno scorso si è stata la prima società italiana. Sì, no, sicuramente noi tanti anni che siamo nel ciclismo, io correvo in bici, quindi vengo dal ciclismo, siamo partiti in sordina, siamo cresciuti piano piano, come una piccola azienda che poi piano piano è cresciuta. Siamo arrivati negli ultimi anni ad avere dei risultati importantissimi. Questo sicuramente dobbiamo ringraziare in primis il Cavalier Gianluigi Belotti della LVF, che senza di lui sicuramente non saremo arrivati a questi punti e tutti gli altri sponsor che ci affiancano. Quest'anno è entrato anche Porto i Garofoli, che ci danno mano per portare in giro questi ragazzi. Sicuramente è una squadra che costa, per fare le cose bene bisogna comunque essere organizzati, bisogna avere i famosi denari perché se no non vai da nessuna parte. Sicuramente noi contiamo di fare quest'anno un calendario importante a livello non solo nazionale, ma anche sicuramente qualche gara all'estero. E niente, vogliamo ripetere l'annata dell'anno scorso. Abbiamo degli ottimi elementi, quelli che sono rimasti e quelli che sono arrivati, quindi siamo molto fiduciosi. Poi naturalmente ci saranno anche gli altri che corrono, non c'è solo LVF. Ci sono altre squadre importanti in Italia, quindi noi saremo pronti per partire il 17 marzo con la prima gara per poter puntare subito ai nostri obiettivi. È arrivato Gianluigi Belotti, ma manca il Beppe. Purtroppo il Beppe ci ha lasciato dieci mesi fa e questo per noi è stato veramente un dramma. È comunque rimasto sulla nostra maglia la sua azienda Onva, che continua anche quest'anno con noi, ci dà comunque una mano, non solo finanziariamente ma anche da lassù. Per noi è stata una perdita veramente che ancora solo a pensarci mi vengono lacrime agli occhi. Allora a lei in suo onore. Senz'altro, la prima vittoria sarà sicuramente dedicata a lui. Sì, pertanto speriamo che arrivi alla svelta, così lo ricordiamo immediatamente. Direttore tecnico Raul Parsani, direttori sportivi Paolo Valotti, Marco Della Vedova. Corridori che saranno impegnati quest'anno sono Luca Buttini, Matteo Corini, Manuel Daniello, Nicolas Dresti, Andrea Gatti, Sergio Meris, Andrea Piccolo, Samuel Quaranta, Thomas Traenini, Enrico Valotti, Antonio Bevilacqua, Gianmarco Garofoli e Giras Umbri. Una squadra che è già sulla cresta dell'onda. Sì, la squadra è importante, d'altronde arriviamo da una stagione favolosa, quindi ci siamo riorganizzati per tentare di stare sulla cresta dell'onda. Non è facile o è facile? Sicuramente è facile, di facile non c'è niente. Noi, come ha detto Della, ci hanno messo nelle condizioni di far bene. Ripetere, impossibile non è, ma ci proviamo. Maglia tricolore di piccolo, da difendere, ma più che altro guardando ancora più in alto alle ride. Gli obiettivi ci sono, il ragazzo è forte, concentrato, noi ci crediamo tutti, ci proviamo. Non si sa, però la stagione è lunga, ma noi puntiamo a questo grande obiettivo. Ragazzi che arrivano anche dalle marche. Sì, è una squadra che abbiamo pescato un po' dappertutto, insomma, si è rinforzata e vogliamo, ripeto, stare alla grande. Raul Parsani, da farato più che mai, preparare il tutto e tutti gli anni il tuo impegno, ma però negli ultimi anni viene premiato non poco. Questi ragazzi ti portano soddisfazione in casa? Ma assolutamente sì, è chiaro che l'impegno di tutti, non solo il mio e di noi, ma c'è una struttura dietro che lavora tanto, però ripaga. Quando ci sono questi risultati, chiaramente siamo ben felici di fare degli sforzi in più. Quest'inverno di cosa avete parlato, di quali vittorie avete parlato col Patro, con Omedeo? Non si parla di vittorie, si parla di programmi. Poi le vittorie, se i programmi verranno fatti correttamente e giusti, quelle penso che potranno arrivare. Gianluigi Belotti l'abbiamo boccato qui con i suoi amici, mentre stanno parlando dalla stagione 2019. Qualcuno dice due vittorie, qualcuno 32, qualcuno il mondiale, l'italiano, l'europeo, ma voi ormai siete maturi, siete la squadra numero uno in Italia, Gianluigi Belotti, e questo è importante. Ma diciamo che il Presidente vola sempre un po' in alto. Se ci fosse il nostro amico Panini direbbe volo un po' in alto. Ha fatto bene la ricordata. In effetti... Comunque il numero di ragazzi è importante, ci sono. Sì, i ragazzi ci sono e penso che anche quest'anno faremo. Se non ripeteremo la stagione scorsa, perlomeno ci comporteremo bene. A fare gli auguri a questi ragazzi, sì. Gli auguri glieli fa il Presidente e li terrà molto in riga, proprio perché vorrà centrare i suoi obiettivi. E voi sarete sempre a seguito? Sempre ed ovunque. Anche a te. Sicuramente non mancheremo mai. Nel nome del mitico Beppe. Per forza di cose. Ci manca. Ci manca anche tanto. Tantissimo. Perché oggi dovevamo andare a sciare, come l'anno scorso, quel periodo qua andavamo. Sì, ma comunque è lì che ci aspettano. Beppe, a tutta! Le biciclette sono ormai storiche e Eugenio Gotti prepara tutti gli anni le scotte per questi ragazzi che poi i ragazzi regalano vittorie non indifferenti a questo marchio, a questo vostro lavoro. Le vittorie che abbiamo fatto quest'anno io non le ho mai fatte in tantissimi anni. Devo ringraziare tutti, specialmente i ragazzi, perché senza le vittorie manca un po' di roba. Ah, l'hai sentito! Sì, no, è ormai credo sia il settimo o l'ottavo anno che siamo con Gotti. È diventato per me un amico, un fratello. E diciamo che da quando abbiamo conosciuto lui, chissà perché, abbiamo anche cominciato a vincere, a fare risultati e probabilmente le sue mani esperte si vede che ci monta qualcosa di particolare in queste bici. No, a parte gli scherzi, noi siamo contenti di essere con lui. Quest'anno siamo di nuovo con la Scott, è il secondo anno. Sono bici bellissime, leggere, quindi sicuramente è una persona importante per noi. Mago, fai gli auguri ai ragazzi! Volevo dire che nel 2019 non abbiamo un'eredità del 2018, ma abbiamo un peso da sopportare. E non è facile questo. Basta, volevo dire questo qua ai ragazzi. Bravo! Un augurio? Un augurio che andiamo avanti così con la salute e tante belle cose insomma. Ciao a lei!